Per la rubrica immobiliare vogliamo con Marina Persi in Francia sulla Costa Azzurra a Cap Marten per visitare un complesso di appartamenti con vista sul mare. L'estate in Costa Azzurra? Perché no? Che meraviglia! E chi non vorrebbe essere qui al mio posto con alle spalle il mare della Costa Azzurra? Sono a Rockbrun, Can Marten, a due passi da Monaco, da Monte Carlo, da Cannes e in un nuovo comprensorio complesso, anzi residenziale, sempre di casa VIP. Ma chi ce lo può raccontare meglio questo complesso residenziale? E' la nostra responsabile titolare delle vendite all'estero, Alessandra Lucchese. Allora questo posto incantevole che caratteristica ha? Questo posto incantevole la caratteristica chiaramente sono le terrazze, tant'è vero che si chiama le terrazze di Cap Marten dove ogni appartamento praticamente ha a disposizione una sua terrazza privata con affaccio sul mare. E che affaccio? Fantastico. Hanno dei posti auto. Hanno posti auto, posti auto box e non solo, hanno questo sistema di teleferica che si porta nella piscina scavata nella roccia quindi è una cosa molto singolare, particolare, di lusso. Chiamiamolo per pochi eletti. Andiamo a vedere questi appartamenti? Ah ecco, hai scelto questo, senti ma che meraviglia! Ci sono le porte, ovunque. Il rovere, questo è il rovere intapplicato. Bellissimo, le rifiniture devo dire sono molto ma molto accurate. Questo è un appartamento di? Tipologia un'ottantina di metri quadri. Anche questo ha la sua cucina già perfetta, pronta. Cucina già in dotazione. Anche questa in legno. Il suo soggiorno con terrazza. Pavimenti eccezionali. Pavimenti in marmo con i tarsi in verdessorie, insomma i dettagli qui. Il mare naturale. Il mare naturale, sì. Allora qua c'è una camera con la faccia sulla roccia. E di qui invece c'è l'altra camera con la faccia sul mare. Con la faccia sul mare. Che anche questa però non disdegna il suo bagno con la roccia di sfondo. Quindi insomma devo dire che ogni angolo ha la sua particolarità. Le rifiniture sono fantastiche. Mi dicevi che è centralizzato sia il riscaldamento, l'aria condizionale. Calda e aria calda. Autonomo, autonomo. Sì, e aria condizionata, tutto autonomo. E poi si torna su una delle ormai meravigliose terrazze di questo... Splendido, costruzione. Residenziale. Senti ma anche un po' così come mercato, noi normalmente non parliamo di prezzi e quindi non ne parleremo. Ma così in generale sulla costa, quanto compri? Si può fare così una piccola... dare un piccolo dettaglio. Si può partire, diciamo che si varia da un 6.000 metro quadro, si può arrivare anche a 10, 11, dipende dal tipo di... Beh, però insomma bisogna che lo sappia. I nostri... Certamente. Inutili, non diciamo... Sì, sono molto sempre spaventato. Si può arrivare... A dire chissà cosa mi trovo. Si può arrivare, sai, dalle rifiniture, chiaramente anche quelle hanno un costo e... Senti, e di qui torniamo dentro. Torniamo verso il soggiorno, certo. E poi mi parlavi di una piscina. Una bellissima piscina scavata nella roccia. Però... Che è il caso di vedere. Vabbè, allora andiamo, se proprio fai così. Sì, è il caso di vedere. Senti Alessandra, questa è la famosa bellissima piscina, ma l'idea è che qua c'era la roccia. La roccia. È stata demolita una roccia per... Nove mesi per demolire una roccia. Che abbiamo intravisto salendo un pezzo con la teleferica. Esatto. Anche questa è abbastanza originale in un posto di mare, no? Sì, devo dire che la piscina qui è il must. Veramente, poi sei come privacy molto riservato, insomma. Senti, come al solito casa VIP, cioè ha delle case molto belle. Bello e particolari. Io ti ringrazio. Grazie a te. E alla prossima. Alla prossima. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.